ciao salve a tutti allora oggi volevo fare alcuni investimenti sulla bd swiss che comunque ancora io ancora ho il conto aperto e non mi hanno fatto levare i soldi però probabilmente chiederanno magari un'altra licenza io lo spero comunque diciamo ancora un conto aperto mi sembra di aver trovato un'altra piattaforma per le opzioni binarie adesso vorrei fare qualche investimento questa piattaforma io sto cercando di mettermi in contatto appena mi metto in contatto vi do il link e vi faccio sapere di quest'altra piattaforma che a quanto pare sembra una buona piattaforma allora io vi faccio vedere alcuni investimenti allora sto operando con i supporti e le resistenze allora qui c'è una resistenza importante ho investito 25 euro per il ribasso come vedete allora ho investito 25 euro però c'è una scadenza di 5 minuti perché su questo asset usd cad non mi davano scadenze di 60 secondi quindi ho investito a 5 minuti per il ribasso vediamo come andrà l'operazione allora vi stavo dicendo io sto ancora investendo sulla bd swiss però sto trovando altre piattaforme allora le piattaforme che ho trovato ve le ho scritte sul file pdf adesso ne ho trovato un'altra però che devo prima verificare devo vedere se riesco a contattarla mi sembra una piattaforma buona è solo che non c'è la lingua italiana ma c'è solo la lingua in inglese però c'è la possibilità di investire gli euro devo leggere meglio i termini e le condizioni e altre cose e poi vi metto il link nel file pdf adesso concentriamoci sugli investimenti io sto facendo investimenti sempre con supporti e resistenze come vi ho detto questi supporti e resistenze non valgono solo per un time frame di un minuto e valgono anche per 5 o 10 minuti potete investire anche nei 5 e nei 10 minuti io ho investito nei 5 minuti per un ribasso perché c'era una resistenza su questo asset quindi vediamo l'investimento come andrà ho investito 25 euro farò solo 3 semplici investimenti da 25 euro quindi voi potete usare la piattaforma Finmax questa piattaforma non toglierà le opzioni binarie la piattaforma BD Swiss per chi era già iscritto sta continuando ad averle le opzioni binarie per il momento non mi hanno detto niente però coloro che magari si iscrivono adesso non possono più investire vedremo se loro chiederanno un'altra licenza extra europea e può darsi che riusciremo a investire allora vedete sta andando a ribasso quindi era una forte resistenza e per ora il prezzo sta scendendo giù questa tecnica si trova sul mio sito www.opzioni binarie60secondi.it c'è il file pdf che è facilmente scaricabile dal mio sito dopo ve lo faccio vedere e come avete visto io sto investendo nei 5 minuti questa tecnica è buona anche per investire con 10 minuti dovete comunque conoscere cosa sono i supporti e le resistenze io nel file pdf ve lo spiego vi sto facendo vedere tutto l'investimento integrale senza interruzioni guardate sta ancora scendendo è scesa abbastanza vi ricordo che la piattaforma film max è molto simile a questa qui è solo che si investe con un importo minimo di 25 euro grazie a tutti allora investimento è andato a buon fine allora adesso cerchiamo un altro asset sempre per poter investire un altro asset che abbia un supporto una resistenza vedete questo l'euro usd qui come vedete c'è un piccolo supporto allora vediamo se vuole scendere riesce a sfondare questo supporto allora sta risalendo forse vuole salire dovete avere pazienza quando investite anche nei supporti e nelle resistenze io vado a cercare un altro asset per vedere se si vede meglio qua vedete c'è una piccola resistenza prendiamo un altro vedete qui c'è stato un rialzo vediamo questo qui c'è stato il ribasso e dove abbiamo investito prima che non mi permette di investire nei 60 secondi qua si può investire dai cinque minuti in su vedete questo è l'euro che è andato un po su adesso sta scendendo di nuovo giù e si è fermato dove stava prima il supporto vedete ci sono quattro punti sulla stessa linea dovete essere molto attenti e avere occhio per poter investire con questi grafici altrimenti sul mio sito ci sono anche altre tecniche coi per investire nei 60 secondi vedete qui come si è formato il supporto come si vede quindi non sappiamo se sfonderà sta un po salendo grazie a tutti sembra che voglia salire in effetti sta di nuovo salendo qua c'è un'altra resistenza perciò si è fermato il prezzo si potrebbe fermare qui andiamo io operò per il ribasso vediamo un poco perché ha raggiunto il punto massimo che aveva raggiunto prima quindi vediamo se vuole scendere quindi io ho investito 25 euro per il ribasso in effetti è sceso vediamo qui e qui e qui e e come vedete sta risalendo vediamo un po se ce la fa scendere vedete ha degli scatti violenti quindi potrebbe anche scendere guardate ora come sta scendendo ok questa posizione è andata bene vedete ora ora è scesa abbastanza quindi ora cerchiamo di trovare un altro asset per un terzo investimento mettiamo i 60 secondi sempre dunque cerchiamo di trovare un altro asset sta scendendo adesso non ci siamo trovati questo è l'euro yen vediamo che intenzioni ha quindi andiamo andiamo Grazie. Vediamo se scende per il ribasso, ah, non l'ha presa in tempo, perché c'era una forte volatilità, comunque capita. Vediamo, allora l'ho presa in questo punto per un ribasso. Vediamo un po'. Sembra che stia andando bene, adesso sta risalendo. Sta risalendo. Vediamo se riesce a prenderlo, oppure vuole risalire. Questa posizione non è andata, quindi cerchiamo di recuperare i soldi. Su un altro asset vediamo un poco la situazione. Questo sta scendendo, lui è 16 HF. Quindi qua metto 50. E vado per il ribasso, perché guardate qui c'è una specie di resistenza. Vediamo, effettivamente sta scendendo. Vediamo. 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 vedete, è sceso. la sembra che ci sia un piccolo supporto, ma l'ha sfondato, sta continuando a scendere. Allora, ho recuperato i soldi, questa posizione è andata in guadagno. Andiamo a vedere le posizioni chiuse, quindi oggi è 25. 1, 2, 3, ho fatto 4 investimenti, 3 sono andati in guadagno e 1 in perdita. Le percentuali di guadagno sono differenti. Prendiamo la calcolatrice e facciamo qualche conticino. Dunque, vediamo, 44 euro meno 25 fanno 19 euro di guadagno. Quindi, 19 euro di guadagno. Sono 44 euro, 45. Sì. Allora, 19 euro di guadagno più 20 euro. uguale 39 più 35 faccio, che è l'ultimo guadagno, meno 25. Allora, un guadagno di 49 euro. Vi volevo ricordare del mio sito www.opzionibinarie60secondi.it se avete bisogno di aiuto e vediamo subito dove si trova l'articolo dei supporti e resistenze. Si trova qui. Supporti e resistenze. Qui, in questo articolo, è spiegato come si formano appunto questi supporti e resistenze e ci sono degli esempi. potete scaricare anche un formato PDF e ci sono alcuni video di esempio su una piattaforma che ormai non fa più opzioni binarie. Come vi ho detto, io sto prendendo contatti anche con un'altra piattaforma che ha una licenza extraeuropea quindi continuerà a fare opzioni binarie. Nel frattempo potete vedere la piattaforma di Finmax che comunque è uguale e molto simile alla piattaforma BD Swiss dove le opzioni binarie non saranno levate. Mentre poi potete andare nel sito dei download e trovare i link ad alcune piattaforme che vi ho messo. Tra poco ve ne metterò un'altra. Poi, se volete, potete andare a visionare i miei ebook che sono degli ebook per chi volesse iniziare a investire nelle opzioni binarie. Questi ebook spiegano dalla A alla Z come investire. Ci sono varie tecniche per poter investire. spiegano l'analisi tecnica, come investire con Fibonacci. E ci sono, insomma, molte tecniche che vanno anche con scadenze orarie e scadenze giornaliere. Poi ci sono altri libri che non sono proprio dedicati alle opzioni binarie come la psicologia del trader che è un discorso generale che insegna come il trader debba comportarsi. e ci sono alcuni esercizi da poter fare per poter gestire al meglio le nostre emozioni. Inoltre c'è l'inversione del trend che spiega come e quando il trend inverte e quindi vi spiega quando poter entrare a mercato. Allora, fra poco metterò anche i video corsi sul Forex, appunto per questo venerdì uscirà un altro video sul Forex. Lo sto ancora facendo, sto trovando varie informazioni per cercare di spiegarvi le cose in maniera molto semplificata. Qui potete trovare altri grafici, altre tecniche per principianti e sempre per le opzioni binarie, però potete trovare anche altre strategie per il Forex. Allora, io vi auguro un buon 25 aprile e ci vediamo al più presto con un prossimo video. Ciao e grazie per la vostra attenzione. Grazie a tutti.